Signore e signori buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Lessie e lo spunto per il video di oggi come sempre sapete che io li colgo dalla vita di tutti i giorni, mi è arrivato assolutamente per caso ovvero lo spunto di oggi, andiamo subito a mostrarlo, è questo, ovvero quello che rimane della mia stella di Natale come vedete è ridotta piuttosto male perché sapete la sottoscritta è amate articolarmente le piante, ama i fiori ma ha una capacità di farli sopravvivere che lasciamo stare per dire mi dimentico di dargli l'acqua, mi dimentico di dargli il concime li lascio dove non dovrebbe, cioè ci sono le piante che amano stare alla luce che io lascio al buio ci sono quelli che amano il buio che io metto in pieno sole e quelli dall'interno li metto all'esterno e viceversa per cui sono veramente pericolosa se mi date qualcosa di vivo questo qua è un regalo che mi avevano fatto a Natale, è sopravvissuto devo dire più a lungo del solito perché è sopravvissuto diverse settimane, però dopo come vedete ha fatto una brutta fine e siccome è molto diversa da come me l'avevano regalata stavo per buttarla via in realtà quando mi sono accorta che forse avrei dovuto fare questo video prima per poter fare la scella di me che me ne accorgo perché in realtà adesso sono cresciuti abbastanza, che c'erano diversi germogli qua sui rami ecco, quando me ne sono accorta chiaramente ce n'era uno solo, poi ho deciso di tenere la pianta per cui i germogli sono aumentati e stranamente nonostante sia io che me ne prendo cura sembra che si stia riprendendo, quindi io direi di fare i complimenti alla pianta perché sicuramente non è merito mio mi sorprende sempre, avevo già fatto qualche altro video per raccontare come mi colpisce proprio questa cosa che la natura riesce a far riprendere le piante nelle situazioni più inaspettate che poi mi porta a pensare anche come noi esseri umani abbiamo la capacità di riprenderci anche quando la situazione sembra disperata, anche quando sembra che non ci sia niente da fare come in questo caso che stavo per buttare via la pianta e quando ho visto quel germoglio proprio non me la sono sentita però questo mi ha fatto riflettere anche su un'altra questione cioè su come in realtà noi compriamo i fiori, prendiamo i fiori per decorare la nostra casa e quindi come spesso quando si riducono in queste condizioni noi li buttiamo perché non servono più al loro scopo quindi allo scopo di decorare e la cosa e la ragione per cui mi ha colpito tanto è che mi sono resa conto che ultimamente succede anche con le persone però e quindi che in tanti casi le persone che entrano nella nostra vita sembra che servano quasi solo a decorarla, essere lì per bellezza e alla prima difficoltà che a me è successa ancora che magari avessi degli amici che nel momento in cui ero un po' in difficoltà iniziassero ad allontanarsi e questa credo che sia una delle cose più brutte da provare in prima persona e che dovrebbe farci riflettere cioè come ultimamente stiamo diventando proprio una società dell'usa e getta che tentiamo ad allontanare quelle persone che magari sono un po' più in difficoltà e che avrebbero bisogno maggiormente di aiuto perché forse siamo un po' presi in questo mondo che va molto veloce e quindi andando così veloce dobbiamo proprio selezionare quello che ci fa stare bene e se una persona crea un problema perché ha un problema quindi la persona diventa un problema nel momento in cui ha un problema e mi ha colpita come questo che sembra un po' un gioco di parole alla fine non lo è e invece è quello che tendiamo a fare un po' tutti i giorni cioè incontrarci con chi ha voglia di vederci e magari non andare a ricercare o a cercare di capire cosa succede a quell'amico che non sentiamo più serve poi scoprire che magari ha passato dei momenti bruttissimi dei momenti di difficoltà e che noi non eravamo lì perché non sapevamo in realtà che fosse in difficoltà e se questo da una parte può essere imputabile alla persona che non si espone, che non vuole far sapere delle proprie difficoltà d'altra parte questo ci fa nuovamente riflettere su come si tenda a non mettere in mostra le proprie difficoltà su come si tenda a tenerle nascoste su come sia importante avere quell'immagine di bellezza quell'immagine di perfezione e forse che prima di tutto ci allontana dalla normalità ci allontana dall'umanità perché l'umanità è fatta di imperfezioni e ci porta appunto a cercare di essere la pianta in piena fioritura senza riuscire ad accettare prima di tutto in noi stessi qualche ramo un po' secco ma anche e soprattutto negli altri e quindi far sì che quello che diventa un ramo secco o una pianta addirittura secca perché prima o poi dal ramo secco si arriva alla pianta secca sia da buttare e quindi si finisca per buttare le persone che non hanno più questo aspetto meraviglioso come butteremo una pianta come nel mio caso e allora proprio in quel momento in cui la stavo buttando via mi sono fermata e ho detto no questa pianta la salviamo perché è vero che l'avevo comprata per bellezza è vero che l'avevo comprata per decorare la mia stanza però vuole vivere e è quasi più bella questo sforzo questa forza che sta mettendo nel cercare di vivere ad ogni costo che la pianta perfetta e quindi si arriva a una bellezza dell'imperfezione alla bellezza che effettivamente sta mostrando con questi germogli non so se si vede ma hanno un verde meraviglioso un bellissimo verde primaverile quindi una stella di Natale che è una pianta invernale la vediamo fiorire prima o poi scommetto che per Natale sarà pronta e mi metterà fuori nuovamente dei fiori meravigliosi poi considerando che in realtà la sto curando io non è detto, non si sa però questo qua è il sogno questo qua è il desiderio e soprattutto mi piacerebbe poter fare altrettanto con le persone soprattutto con quelle che ho intorno e quindi conosco e con le quali posso appunto interagire e andare ad agire quindi per fare in modo che questa non sia solo una chiacchierata che non sia solo un discorso ma che abbia davvero uno sbocco che allontani da questa tendenza verso la quale ci stiamo muovendo perché mi succede di vedere anche matrimoni tra amici che purtroppo falliscono perché succede però la facilità soprattutto con cui le persone si lasciano come dire eri perfetto era l'amore della mia vita però ho scoperto questa cosa di te che non mi piace per cui sei tutto da buttare addio e quindi noto meno una voglia di cercare di mettersi in gioco di cercare di recuperare rapporti a scapito appunto dovuta più che altro a quella usegetta che ci viene venduto dalla nostra società e che quindi facciamo con qualunque cosa a partire dal cellulare passando per qualunque cosa tecnologica o anche solo di abbigliamento cioè finita la stagione quel capo non è più di moda e finisce nel bidone e abbiamo proprio questa mentalità dell'usegetta che credo che sia talmente insita nella nostra cultura in quello in cui siamo abituati a trovarci di fronte tutti i giorni che poi finiamo per applicarla anche alle altre persone e a questo punto credo che appunto sia il momento di fare un passo indietro e di trovare appunto nuovamente la voglia di recuperare recuperare gli altri recuperare i rapporti anche se hanno perso questa maschera di perfezione anche se hanno perso questa superficie tutta imbrillantinata non mi piace il termine so che non è italiano sopportatevi e quindi questa quest'aura di magia di perfezione e questo era solo un pensiero così una piccola riflessione ma sarei curiosa di sapere se anche voi condividete questa sensazione o se appunto è solo mia e in caso cosa potremmo fare per cercare di migliorare e rendere un po' più umano questo mondo che ci circonda detto questo se il video non vi è piaciuto mettetemi pure un pollice in giù se il video vi è piaciuto pollice in su in entrambi i casi fatemi sapere perché noi ci sentiremo tra qualche giorno con un video di un argomento completamente diverso perché sapete che su questa canale su questa canale va bene su questo canale i temi sono molteplici partendo dal trentino passando per la Germania corso in tedesco argomenti di attualità scienza fantascienza tecnologia e chi più ne ha più ne metta se questi sono argomenti che vi possono interessare vi consiglio di andarvi ad iscrivere al canale e sottoscrivere la campanella oggi non ce la posso fare e schiacciare la campanella per iscrivervi e soprattutto ricevere tutte le notifiche noi ci sentiamo tra qualche giorno con il nuovo video nel frattempo auguro tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti